canale allora oggi nuovo video un video come vedete di disegno e questa volta andrò a realizzare questo unicorno questo cavalluccio qua pony perché piccolino unicorno insomma andremo da realizzare questo e spero niente che mi riuscirà bene e niente noi ci vediamo a fine no 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.